Musica In questo appuntamento con Unicam News attiva partecipazione di Unicam alla mostra mercato regionale dell'artigianato di Fabriano. Unicam ha ospitato la scuola internazionale di cristallografia. Proseguono le iniziative di tutorato per gli studenti Unicam. Alvia il campus estivo a scuola di natura al Museo delle Scienze di Unicam. Ben ritrovati a questo appuntamento con Unicam News. Abbiamo sentito i titoli, allora partiamo subito con il primo servizio. Musica Anche l'Università di Camerino ha preso parte attivamente alla ventisesima edizione della mostra mercato regionale dell'artigianato di Fabriano. La tre giorni dedicata alle imprese artigiane del territorio e alle eccellenze regionali. L'edizione 2013 è stata intitolata abilmente il futuro nelle tue mani, proprio a voler sottolineare il fare e il saper fare. Il rettore Unicam, Flavio Corradini, ha partecipato all'apertura dell'evento ed è intervenuto in qualità di relatore al forum sul tema Modello di sviluppo economico per il territorio post-industriale, tenutosi nella serata di venerdì. Rappresentanti di alcuni spin-off Unicam sono intervenuti nella serata dedicata proprio agli spin-off universitari e alle start-up aziendali. Tutti i partecipanti hanno poi potuto avere informazioni sull'Università di Camerino, sull'offerta formativa e sulle agevolazioni per gli studenti all'interno dell'Infopoint. La scorsa settimana l'Università di Camerino ha ospitato per la terza volta consecutiva la Scuola Internazionale di Cristallografia, giunta alla nona edizione. Organizzata dall'Associazione Internazionale di Cristallografia e dal gruppo di Mineralogia di Unicam, coordinato dalla professoressa Eleonora Aparis della sezione di Geologia della Scuola di Scienze e Tecnologie, la scuola è stata ancora un importante appuntamento per dottorandi e giovani ricercatori provenienti da diverse nazioni europee. Il bilancio è decisamente più che positivo, siamo sempre molto soddisfatti di avere queste edizioni di Scuola di Cristallografia qui a Camerino, perché l'ospitalità è grandiosa, le strutture sono assolutamente efficienti e quindi siamo decisamente molto contenti. Infatti è già la terza edizione che facciamo qui a Camerino. Dal punto di vista degli studenti, quest'anno abbiamo avuto una partecipazione molto ampia, con una cinquantina di studenti registrati e almeno 15 vengono dall'estero, quindi anche questo è di grande soddisfazione per tutta l'organizzazione ovviamente. Quest'anno la tematica è un po' più specifica, nel senso che non è una scuola di base, ma è per studenti che già hanno un background un po' più consolidato che sono sempre argomenti di cristallografia, ma con applicazioni sia nel campo della geochimica, della petrologia, così come nel campo delle scienze dei materiali. Quindi stiamo cercando di mettere insieme un po' quelle che sono le informazioni cristallografiche di base, insieme a potenziali applicazioni in diversi campi. Quest'anno in particolare siamo anche particolarmente interessati e particolarmente soddisfatti di poter avere questa scuola, perché la cristallografia sta vivendo un momento particolarmente importante, in quanto il prossimo anno, il 2014, è stato proclamato dalle Nazioni Unite l'anno internazionale della cristallografia. È iniziato nei giorni scorsi il corso estivo di matematica e logica organizzato da Unicam con l'intento di consolidare la preparazione degli studenti che vogliono accedere ad un corso di laurea scientifico nel prossimo anno accademico. A volte, infatti, i conti non tornano e per alcuni studenti la matematica può diventare un problema che fa venire meno l'impegno nel percorso di studi. È per questo che il servizio tutorato dell'Ateneo ha deciso di organizzare questa importante iniziativa. E per rendere più agevole l'inserimento nel mondo universitario, Unicam propone i prossimi 26-27 settembre le giornate di ambientamento per le matricole. Tutte le informazioni sono disponibili nel sito www.unicam.it Ha preso il via lunedì 2 settembre presso il Museo delle Scienze di Unicam il campus estivo a scuola di natura. Esperienza ludico-naturalistica dedicata ai ragazzi dai 6 ai 12 anni. Per una settimana i bambini e i ragazzi partecipanti avranno l'opportunità di divertirsi e trascorrere qualche giornata insieme, giocando e allo stesso tempo seguendo percorsi che consentiranno loro di conoscere meglio la natura ed imparare ad osservarne i cambiamenti, tenere comportamenti ecosostenibili ed apprezzare la biodiversità e la ricchezza del territorio. Le giornate si svolgono presso il Museo delle Scienze con personale qualificato che seguirà i ragazzi per tutta la durata del campus. Sono previste anche attività presso l'orto botanico, mentre tre giornate saranno dedicate ad escursioni in natura. L'iniziativa è realizzata dal Museo delle Scienze di Unicam con la collaborazione del Comune di Camerino, delle associazioni Smilax di Camerino e Idea 21 di Tolentino. Bene, con questo è tutto. L'appuntamento con Unicam torna mercoledì prossimo alla stessa ora. Vi ricordo che potete trovare tutte le informazioni sull'Università di Camerino nel sito www.unicam.it. Grazie per l'attenzione e buona serata. Grazie per l'attenzione e buona serata.